Con i tecnici del settore giovanile femminile il responsabile il professor Carmine Cavallaro e da quest'anno lo affianca Rossita Fedele, questa sera una nuova partita delle ragazze dell'Under 18, la terza vittoria consecutiva. Professore, intanto le sue prime sensazioni rispetto a queste prime tre partite, l'hanno soddisfatta le ragazze? Diciamo che è una squadra che sta lavorando, quindi deve ancora crescere, perché purtroppo abbiamo l'handicap di non riuscire a lavorare con continuità con le ragazze, quindi abbiamo tre ragazze che vengono in prestito da pizzo, integrate con le ragazze del nostro gruppo, quindi avremmo necessità di lavorare un po' di più assieme. Però ho visto la squadra oggi molto più volitiva e lavorato con maggiore attenzione, anche tattica, su accorgimenti che abbiamo dato durante il corso della partita, quindi sicuramente è una squadra che ancora può dare tanto. Rossita, tu da quest'anno, come dicevamo, fai parte in pianta stabile del settore giovanile dello staff tecnico della Tonocalipo Calabria Vibo Valencia, anche a te chiedo un giudizio rispetto al lavoro che sta facendo questa squadra, questo settore giovanile e femminile, e poi naturalmente come ti stai trovando anche dal punto di vista personale in questa avventura anche con i CAS? Bene, direi che per quanto riguarda la squadra si sta facendo un bel lavoro per mettere insieme le ragazze, che vengono magari anche da esperienze diverse, e questo è un compito grandissimo che il nostro allenatore sta cercando appunto di metterle insieme. Sono ragazze che hanno veramente grandi potenzialità e ancora secondo me si è visto poco, penso che un po' di tempo riusciranno a stare meglio insieme e si vedranno molte belle cose. Per quanto mi riguarda personalmente sono contentissima, c'è un grande entusiasmo, arrivano tanti bambini in palestra, anche il rapporto con i genitori è diventato veramente importante perché è importante che i bambini capiscano che quello è un posto dove noi li accogliamo per stare bene, per divertirsi, e i genitori si debbano sentire tranquilli che vengono lì esclusivamente per questo. Sono veramente contenta di questa esperienza a Vibo, mi trovo veramente bene. Professore, tornando al campionato, un percorso di crescita della sua squadra, dopo le belle cose fatte vedere l'anno scorso, ecco l'Under 18, la prima divisione e soprattutto l'Under 16 con la storica fase finale regionale di Castrovillari, dicevamo un percorso di crescita che deve dare i suoi frutti anche quest'anno. Sì, ce l'auguriamo perché, ripeto, noi abbiamo queste ragazze che già hanno un'esperienza di lavoro assieme e sicuramente un'esperienza anche positiva con la finale regionale che è stato un momento di maturità anche loro, quindi sicuramente lavoreremo meglio per consolidare questi elementi.